Adamo ha un esercito esorcista schierato davanti alla mia porta, pronto allo sterminio e non c'è nulla che io possa fare! Tu non sai una cosina che io sooo... Quei grandi esterminanti angeli non sono così forti come sembrano. Diciamo solo che tu e i tuoi amici potreste avere una speranza contro quei cazzoni di angeli. Quale? Sono disposta a... Bravi saperlo. Allora, facciamo un patto. Tu, tu, tu vuoi la mia anima? La tua anima? Ma figurati, no! Quello che voglio è solo un favore piccino, ino ino, una cosuccia tra amichetti. Non farò del male a nessuno. Chi te lo chiede? Ma no! Quello che voglio è un favore, te lo chiederò io quando vorrò io. In cambio tu non farai del male a nessuno. Ma fai fatto? Quattro! 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 Quattro!